Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono contentissimo Beh, oggi vi dirò perché Si sta avvicinando a lui Sìììì Guardate, mi sono già messo l'outfit In tutti questi giorni perché non ho fatto video Quindi dai Però hanno cambiato abbastanza di cose Ora ve le farò vedere Guardate, hanno tolto l'anniversario È finito purtroppo Io sono super triste Perché è durato pochissimo Però hanno aggiunto questi animali di Allokitty E questo cagnolino Che bellissimo E poi hanno aggiunto pure il pass Che è proprio bruttissimo Sto a zero Non riesco mai a salire Mi sa che non salirò nemmeno di uno in questi giorni E poi guarda E poi Dice l'admin Vabbè non lo disturbiamo Vuole essere disturbato Poverino Vuole essere disturbato Perché qualcuno non lo sa Ma io con l'admin Lo conosco Oh che è successo Vabbè Guardate 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 Giocate con il vostro animale Che bello No No Finiamo qui il video Dovevano aggiungere Dovevano aggiungere Ora ve lo farò vedere Sempre Sempre Dovevano aggiungere Nella scuola Ora ve la farò vedere Ecco Ah guardate Vi voglio O direte Ma dov'è il coniglietto Beh Ora ve lo farò vedere Ora salgo sull'albero Ora ve lo farò vedere Siete se sentite tanto rumore Opla Ecco Già l'ho fatta Eccolo E qui Che triste Qui che triste Oh Ma dentro la scuola C'è una cosa Vediamo No Non hanno aggiunto nulla Peccato Io pensavo come l'anno scorso Che facevamo Tipo che toglievamo Tutto nella mensa Che facevamo come l'anno scorso E sì E ci siamo preparati Per Per No L'anniversario Per Halloween Che brutta cosa però questa Che altro Ha un sacco di soldi pure Oh Ma sono un fantasma Poi si sta vivendo Allora non ci vuole Comunque Comunque Il mio cavallino zombie È cresciuto Dall'ultima volta E mi sa che voi non ve lo ricordate Ma È un video molto vecchio Però ora Vi faccio vedere Proprio tutto Di Halloween Che dietro Il L'Erk C'è un segreto Va bene Non Quello Il segreto Delle banalissime Batterie Terriere Ma un altro Cioè L'avete visto Urran Cavolo Non ci lasco qui Sa te per il rumore No Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Ciao